Uno degli architravi del pensiero economico moderno è che il valore di ogni cosa sia rappresentato dal suo prezzo e che questo prezzo si formi riflettendo i vantaggi reali o anche solo presunti che il consumatore gli attribuisce. La crisi climatica ed in parte anche la pandemia attualmente in corso spingono a rivedere molti degli assiomi tradizionali, incluso quello del modo di misurare il valore delle cose. La crisi climatica trascina infatti con sé anche la consapevolezza che il sistema così com'è è insostenibile e deve essere cambiato. Ma produce anche l'impressione che cambiarlo comporti costi materiali, sociali ed economici troppo grandi. Tuttavia via via che se ne toccano con mano gli impatti disastrosi e se ne misurano i danni, l'opportunità del cambiamento assume anche una dimensione quantitativa più visibile. Se i danni sono ingenti vale la pena di sostenere gli alti costi necessari per evitare. Dagli anni 70 del secolo scorso ad oggi il numero annuo degli eventi idrogeologici e meteorologici catastrofici è più che quintuplicato a livello globale, provocando danni che ormai sono dell'ordine medio di oltre 200 miliardi di dollari l'anno. In Italia la medesima stima si colloca oggi attorno ad esempio ai 3 miliardi e mezzo di euro per ogni anno, anche se secondo il Ministero dell'Ambiente questa cifra rischia di aumentare esponenzialmente nei prossimi decenni. Come noto la crescente frequenza e l'intensità dei disastri ambientali è strettamente correlata all'aumento della concentrazione di CO2, cioè di carbonio, nell'atmosfera, la quale a sua volta provoca il progressivo riscaldamento della superficie terrestre. Poiché la concentrazione di gas serra ha ormai raggiunto livelli oltre i quali il riscaldamento climatico può subire accelerazioni fuori controllo, la radicale decarbonizzazione dell'economia è diventata un obiettivo ineludibile anche per i governi. sotto la spinta di nuove e sempre più pervasive regolamentazioni molte cose sono quindi destinate a cambiare, tra queste anche la nostra percezione del valore delle cose. Così come siamo progressivamente diventati sempre più esigenti sulla qualità dei cibi diventeremo anche sempre più attenti al contenuto di carbonio di qualunque di qualunque prodotto. Dal prossimo anno tutte le imprese saranno infatti tenute a quantificare e a rendere pubblico l'impatto ambientale dei propri processi produttivi e coraggiato anche dalle nuove regolamentazioni il mondo della finanza si sta progressivamente orientando a premiare quelle ambientalmente più virtuose e a penalizzare le altre. Inoltre già oggi la virtù ambientale comincia ad assumere anche la veste di un vero e proprio valore misurabile. L'Unione Europea impone infatti a molti settori energivori, sederurgico, cementifero, energetico e così via, di limitare le proprie emissioni di CO2 al di sotto di quote predeterminate. E ha creato anche un mercato detto ETS, cioè Emissions Trading System, in cui le imprese che non riescono a rispettare le quote possono acquistare una sorta di buoni carbonio, cosiddetti European Alvances, lo possono acquistare dalle imprese che invece riescono a stare al di sotto dei limiti e che per questo hanno porzioni di quote in esubero cedibili sul mercato. Le imprese cattive pagano cioè un prezzo di mercato a quelle buone per rientrare nelle quote e questo prezzo diventa tanto più alto quanto più ampi sono gli storamenti rispetto ai limiti stabiliti. L'inquinamento si traduce cioè in prezzo dei buoni carbonio che è l'equivalente di una tassa progressiva e che varia in proporzione alla buona o cattiva condotta delle imprese soggette a quote emissive. Meccanismi correttivi simili a quello vigente in Europa si vanno ormai rapidamente diffondendo nel mondo. Il sistema è però purtroppo ancora molto frammentato e disomogeneo, tanto che il prezzo medio mondiale del carbonio è stimato dal fondo monetario ancora molto al di sotto di quello che sarebbe coerente con gli obiettivi di azzeramento delle emissioni. Il prezzo del carbonio che oggi si forma sui diversi mercati è quindi uno strumento ancora inefficace ma la sua stessa esistenza prefigura un futuro in cui il valore di tutte le merci dovrà tenere conto nel prossimo futuro. Infatti mano a mano che il sistema di scambio e tassazione della CO2 si perfezionerà e convergerà su standard comuni, il prezzo dell'inquinamento ambientale diventerà sempre più una componente di costo importante per tutte le imprese e tenderà inevitabilmente a trasferirsi anche sui prezzi finali delle merci e soprattutto di quelle meno virtuose spingendoli verso l'alto. Le merci prodotte in modo più inquinante tenderanno cioè a costare di più delle altre e perderanno progressivamente anche il favore dei consumatori. Decarbonizzare diventerà una condizione di sopravvivenza commerciale per le imprese ed un forte vettore di convenienza per i consumatori. Riuscire a dare un prezzo adeguato al carbonio può cioè diventare un potente antidoto contro il degrado climatico. Il valore di ogni cosa non dipenderà più solo dalla sua godibilità ma incorporerà anche il costo dei danni collettivi generati dal produrla e allo stesso tempo valorizzerà i comportamenti che quei danni aiutano invece ad evitarli. Oggi non sappiamo se questo meccanismo sarà sufficiente a preservarci dai grandi guasti del riscaldamento globale. Tuttavia per la prima volta negli ultimi 300 anni cioè per la prima volta nell'intera storia del capitalismo disponiamo di un potenziale vaccino.